Dogecoin, da scherzo alla conquista della luna. La criptovaluta creata per scherzo nel 2013 è diventata uno degli asset più scambiati sui mercati finanziari almeno negli ultimi giorni. La popolarità di Doge esplosa all'inizio del 2021 l'ha resa la quinta criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato. Ma partiamo dalle origini. Chi sono i creatori di Dogecoin? Gli ingegneri informatici Billy Marcus e Jackson Palmer hanno creato Dogecoin nel 2013. Palmer ha ideato il logo della criptovaluta utilizzando un meme popolare all'epoca che conteneva la parola volutamente errata Doge per descrivere il cane Shiba Inu. All'inizio del 2021 Dogecoin ha ottenuto lo status di culto sulla bacheca di WallStreetBets di Reddit, il principale istigatore dietro gli acquisti su GameStop a gennaio, dove gli appassionati avevano promesso di spingere il suo valore sulla luna. La Reddit Army, formata da piccoli investitori, ha trasformato il Dogecoin da un meme bizzarro a un asset ampiamente scambiato del valore di circa 50 miliardi di dollari superiore a quello di Marriott International o Ford Motor con rendimenti superiori al 8100%, il doppio dei rendimenti sull'S&P 500 compresi i dividendi dal 1988. Se Dogecoin dovesse raggiungere la quotazione di un dollaro, come promesso dai redditors, il suo valore superiore supererebbe le società Blue Chip, tra cui Advanced Micro Devices e General Motors. Ma dove si può acquistare i Dogecoin? Guardiamo insieme le diverse piattaforme. La criptovaluta si può acquistare sulla piattaforma di Binance e Kraken. Il principale exchange di criptovalute Coinbase, quotato da qualche giorno sul Nasdaq, non sopporta, almeno per il momento, gli acquisti di Doge. Alcuni broken online, tra cui Robinhood e Trade Station ti consentono anche di acquistare Doge, oltre alle attività convenzionali come azioni, fondi comuni di investimento e obbligazioni. Tra i sostenitori più popolari della criptovaluta c'è il CEO di Tesla, Elon Musk, che ha definito Dogecoin la sua criptovaluta preferita. Musk ha anche chiamato Dogecoin la criptovaluta del popolo e ha promesso di piantare un gettone Doge fisico sulla luna. Forse vi state chiedendo se bisogna acquistare il Dogecoin? Beh, guardiamo le performance di breve termine, ovvero l'ultimo trimestre. Vi faccio vedere questo grafico che naturalmente è il valore attuale che è circa 40 centesimi e non solo, vi faccio vedere un altro grafico che fa vedere quanto ricercato è il Dogecoin sulla rete e non solo, è più ricercato sia di Bitcoin che Ethereum. Una persona che avesse deciso di investire 10 mila dollari in Dogecoin il 31 dicembre avrebbe accumulato più di 821 mila dollari secondo i dati di Kraken e non solo, gli stessi soldi investiti in azioni di GameStop avrebbero fruttato poco meno di 87 mila dollari e in un fondo indicizzato che seguiva l'S&P 500 quasi 11 mila dollari, compresi addirittura i dividendi. Ma occhio all'entusiasmo del momento perché il Dogecoin non rispecchia alcun fondamentale.